10 anni fa sono stato presidente di Assomidia, quindi ho fatto parte e ho nominato, sono anche dei tecnici, nei vari comitati dell'Auditel, dell'Audiopress, dell'AudiRadio e ho contestato poi credo nel 2002, con un'intervista che ha fatto un po' scalpore, perché mi sono tirato addosso le critiche del Lupa, di Mediaset, della Rai, dicendo che l'Audi era un blef, ho fatto in prima pagina con tutto il titolo, Audi blef, io contestavo dopo, allora nel 2002, quindi quasi 20 anni, quindi 15-20 anni dalla partenza, la permanenza di una società mista che se all'inizio aveva un senso, troviamo un accordo tra mezzi, utenti e professionisti del settore per rilevare un ascolto su cui viene determinato il prezzo, dopo vari anni questa società mista è diventata un inciucio che copriva, secondo me, e l'ho denunciato più volte, con pochissima trasparenza, zero trasparenza, una serie di distorsioni e di inadeguatezze che rendevano l'Auditel già allora, un sistema vecchio, un sistema che non rappresentava l'evoluzione che la società stava avendo, parliamo allora, c'erano i primi DVD che arrivavano con i giornali, milioni di DVD che la gente se comprava andava a vedere, sottraendo tempo alla televisione, c'è sempre stata la non trasparenza nel panel, come veniva fatto il panel? Da chi era fatto? Io ho sempre detto ci sono solo gli altoconsumanti della televisione, è chiaro che se sono gli altoconsumanti la rappresentazione dei numeri non mi può rappresentare la totalità degli italiani, c'era un problema di stranieri, oggi leggo un'intervista di Pancini che dice stiamo pensando di inserire gli stranieri, siamo nel 2012, era già inadeguato nel 2002, sono passati dieci anni, stanno ancora pensando di fare delle trasformazioni, per cui la non trasparenza rendeva sì che questo sistema che è una convenzione, poteva andare bene per determinare dei prezzi e quindi ho dei trend tra un programma e l'altro, ho indicativamente faccio delle valutazioni, è diventato un sistema assoluto, dominante, che già allora scricchiolava e oggi è assolutamente obsoleto in tutte le sue manifestazioni e in tutti i numeri che produce. Il 14 di dicembre l'antitrust è uscita con una sentenza, finalmente, ma anche probabilmente con molti anni di ritardo, probabilmente perché Berlusconi non era più al governo e quindi sono saltati alcuni veti e alcune omertà, che ha detto quello che tutta la categoria di professionisti che studiano questo fenomeno da anni, di cui ho sempre fatto parte, ha criticato l'auditel. L'auditel, per come è strutturata e per i dati che ha dato, ha rallentato sicuramente l'evoluzione del mercato italiano, proteggendo i grandi network, RAI e Mediaset, penalizzando, e lo sappiamo, è stato detto anche dalla sentenza, penalizzando i canali minori, le televisioni satellitari, ma soprattutto sottraendo risorse, detto che sui dati altri si stabiliscono gli investimenti pubblicitari, sottraendo risorse al mercato nuovo, al mercato digitale, che oggi, pur essendo uno dei mercati più evoluti al mondo, pensiamo alla telefonia, la diffusione della telefonia in Italia è una tra le più evoluti al mondo, oggi come investimenti pubblicitari siamo tra i più arretrati al mondo, proprio nei nuovi mezzi. Quindi la grande responsabilità dell'auditel, confermata da questa sentenza, è quello di aver sottratto investimenti, difendendo delle posizioni dominanti dei grandi network, a tutta l'evoluzione, a tutta l'innovazione che il mercato, quanto può valere? Intanto diciamo che sono almeno due o tre anni di svantaggio competitivo che ci ha fatto perdere, quanto possono valere due o tre anni? Se oggi pensiamo che il mondo digitale ha circa un 4-5% di investimenti pubblicitari oggi, potremmo avere un 15%, quindi stabiliamo che potrebbe essere a spanne, secondo me, anche se il numero è brutto darli in questo momento perché sono veramente delle buttate, ma l'ammetto come provocazione, quasi un miliardo di euro, perso. Dunque, io non so se il sistema riuscirà a cambiare tanto facilmente e in tempi rapidi, sicuramente questo grande inciucio fatto dai controllori che controllano se stesso con la complicità di chi dà i soldi e dei centri media, che ha fatto nascere sia la sentenza dell'auto, ma un sistema di corruzione diffuso, di over commission, di diritti e negoziazioni fuori controllo, è un sistema che va a morire nel mondo digitale, nell'epoca digitale che è in arrivo, dove ci sono modelli economici, modelli organizzativi diversi, nuovi, trasparenti. Anche la sentenza in realtà avrebbe permesso agli operatori di dire con questa sentenza rompiamo alla società, non l'ha fatto, quindi io non mi aspetto che ci siano dei fatti scatenanti che possono mettere in discussione un'auto che, essendo obsoleta, ha da morire per conto suo. È vecchia, è giusto che vada in pensione, non credo nella sua capacità di rinnovamento. Credo che il mercato si evolva in una direzione molto più trasparente, con gli analytics, con piattaforme semantiche di rilevazione, con dati puntuali e trasparenti, accessibili a tutti, senza la possibilità che nessuno possa inquinarli, come è avvenuto fino adesso, o nasconderli, o cambiarli, o modificarli per gli interessi di qualcuno. Questa è la nuova tecnologia, questa è l'epoca moderna. Bisogna avere fiducia nel futuro, sono convinto che il futuro vedrà nuovi sistemi di rivelazione e un'auto sicuramente messa con tutti gli onori che deve avere, perché ha avuto la sua funzione nella storia della comunicazione, però in soffitta o sugli scaffali, piena di medagli, ma come un reduce che non combatte più. Dire che in futuro la misurazione dei mezzi non avrà senso, perché conteranno i database come elemento di valutazione, quindi il tipo di conoscenza dei comportamenti dei singoli individui, più che di che cosa fanno i mezzi, è come coinvolgono le persone e come si comportano le persone, quello è il futuro su cui ruoteranno anche gli investimenti pubblicitari. Si spostano, quindi la misurazione in sé del mezzo non avrà senso, l'audience non avrà senso, mi interessa capire l'engagement delle persone. Mi interessa capire l'engagement, come una persona è coinvolta in funzione della comunicazione che riceve e il tipo di coinvolgimento che è un brand, che è una situazione, che è un progetto politico, può catturare l'interesse di persone diverse messe in gruppi diversi e la stessa persona può essere contemporaneamente coinvolta da un progetto politico, da alcuni brand, guardare i programmi o le notizie o i dibatti sulla televisione e i programmi su internet. Quindi è il comportamento individuale che interesserà e quindi singoli dati di ascolto, di lettura, delle singole reti diventano davvero delle convenzioni giusto per fare i prezzi, ma in una giungla in cui siamo, con una recessione in cui siamo, anche i prezzi con scale sconti inesistenti non tengono più, quindi che cosa serve l'auditel? Francamente non lo so, non so, secondo me non serve più niente.